3 marzo 2023 prendiamo la seggiovia orcellera nuolette e in questo video andremo a fare la pista numero 2 orcellera rossa riprese con gopro hero 11 in 4k 60 fps hyperview e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su instagram dove trovate foto e reel e perché no anche su twitter vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo questa è la pista numero 3 orcellera centrale nera poca visibilità non mi piace no andiamo sulla rossa decisione presa si va a fare la numero 2 orcellera rossa è un momento visibilità piatta quindi meglio se sboccherà di nuovo fuori il sole mamma mia ci si ferma ho come un dato chi lo è betta grazie a tutti grazie a tutti e andiamo a prendere la seggiovia camoschi ma lo vedremo nel prossimo video questo video è finito metti mi piace iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati guarda altri video ce ne sono di vari generi i video di questa giornata continuano ciao alla prossima